ehi ciao a tutti l'estrogeno è un ormone molto importante per le donne guida i cicli mestruali orchestrando l'ovulazione che innesca i cicli mensili anche se i livelli variano sempre ci deve essere un equilibrio quando il livello di estrogeni è basso il tuo corpo lo mostra attraverso segni sottili ma anche non così tanto sottili nel video di oggi parliamo di 13 segnali che il tuo corpo sta producendo troppi estrogeni aumenterai di peso e l'impatto sul seno e sul ciclo mestruale parliamo di tutto questo e di tanto altro 1 ingrassare se ti sembra che stia ingrassando specialmente nella zona dell'anca è un segno che il tuo corpo sta producendo troppi estrogeni anche l'incapacità di sbarazzarsi di quel grasso suggerirebbe che è necessario controllare i livelli degli estrogeni se il livello di estrogeni non è corretto anche il tuo corpo ti sembrerà gonfio tuttavia mantenere un peso giusto mentre si lotta con gli estrogeni non è impossibile devi prima seguire le basi segui una dieta sana e rimani attiva evita gli alimenti trasformati questi infatti peggiorano solo il tuo equilibrio degli estrogeni rimani idratata mangia proteine magre e cereali integrali per stare al passo con i tuoi obiettivi di peso 2 seni gonfi o molli il primo segnale dei cambiamenti negli ormoni potrebbe essere il seno durante il tuo ciclo mensile potresti aver notato che il tuo seno diventa molle a un certo punto in effetti sai bene cosa aspettarti durante il ciclo il seno può essere dolorante ma se noti che il seno è più gonfio del solito potrebbe essere a causa di un picco nei livelli di estrogeni devi guardare in modo specifico anche la parte anteriore del seno e le areole 3 seni fibrocistici quando il tessuto del seno cambia qualità sia che diventi granuloso o più simile all'intreccio di una corda potresti avere il seno fibrocistico un ulteriore segno potrebbe essere il dolore o la mollezza del seno ogni volta che lo tocchi di solito in alto o ai lati se il tuo seno è fibrocistico il motivo principale potrebbe essere un eccesso di estrogeni a causa dei suoi livelli più alti del dovuto i tuoi tessuti crescono più del solito questo è ciò che li fa diventare grumosi 4 periodi irregolari ci sono una serie di ragioni per i cicli irregolari uno dei motivi è gli alti livelli di estrogeni se i tuoi livelli ormonali non sono equilibrati si può generare il caos nel ciclo che altrimenti il tuo corpo orchestra attentamente la puntualità del tuo ciclo coinvolge anche gli ormoni quindi un livello di estrogeni più alto del normale potrebbe essere la ragione che causa l'irregolarità 5 cicli più intensi insieme all'irregolarità delle menstruazioni se scopri che sono più intensi del solito di norma è a causa di uno squilibrio ormonale l'ormone estrogeno è quello che mantiene spesso il rivestimento del tuo utero nel caso in cui il tuo corpo produca livelli di estrogeni più elevati avrai questo rivestimento più spesso del solito ciò si traduce anche in cicli più intensi 6 sbalzi d'umore oltre a influire sul ciclo livelli di estrogeni più elevati possono anche causare sbalzi d'umore questo ormone è infatti fondamentale per il tuo stato emotivo e l'equilibrio mentale che è anche il motivo per cui sei sull'otto volante delle emozioni durante il ciclo mensile se hai livelli di estrogeni più alti potresti essere più incline anche ad ansia e attacchi di panico può persino causarti depressione durante il ciclo in effetti le persone con livelli più elevati di estrogeni a volte affrontano anche quella che viene chiamata depressione agitata poiché hanno un misto di ansia e depressione 7 minore desiderio sessuale è risaputo che la maggior parte delle donne prova desiderio sessuale inferiore durante la menopausa questa è la medesima situazione anche quando i livelli di estrogeni sono bassi che tu ci creda o no un diminuito desiderio sessuale può anche essere l'effetto di estrogeni più elevati diverse donne sperimentano l'effetto causato da troppi estrogeni questo è quindi uno dei sintomi a cui prestare attenzione specialmente quando non sei neanche lontanamente vicino a una fase della menopausa 8 mal di testa le donne tendono ad avere più mal di testa ed emicranie principalmente a causa del loro sistema riproduttivo questo dipende dagli ormoni che hanno in effetti il mal di testa è il risultato naturale dell'avere più estrogeni rispetto al progesterone quindi se ti capita di avere livelli di estrogeni più alti del normale la frequenza dei tuoi mal di testa sarà molto più alta 9 caduta dei capelli avere un livello più alto di estrogeni nel tuo corpo può anche far diventare i tuoi capelli più sottili uno squilibrio ormonale in cui il livello di estrogeni è molto maggiore del progesterone ne provocherà la perdita anche se perdere i capelli potrebbe non essere un problema immediato lasciarlo peggiorare ti costerà solo più capelli nel lungo termine 10 mani e piedi freddi senti che le tue mani e i tuoi piedi sono sempre freddi potrebbe essere il segno di qualcosa che non va nel tuo corpo quello che non va potrebbe essere anche un elevato livello di estrogeni ma in che modo questo influisce sulla temperatura corporea la risposta è semplice influenzando la circolazione sanguigna troppi estrogeni significa che il tuo corpo non ha una corretta circolazione sanguigna e la circolazione è essenzialmente ciò che mantiene il corpo caldo se non hai una corretta circolazione potresti avere mani e piedi freddi mani e piedi freddi sono anche il risultato di altre patologie mediche ma probabilmente c'è uno squilibrio di estrogeni se è combinato insieme ad altri sintomi 11 memoria debole uno dei fattori associati alla malattia di alzheimer è un basso livello di estrogeni e anche la causa di altri tipi di perdita di memoria un alto livello di estrogeni potrebbe anche causare la perdita di memoria se tu o i tuoi cari vi accorgete di avere difficoltà a ricordare le cose di base potrebbe essere a causa di uno squilibrio di questo ormone 12 insonnia l'estrogeno è un ormone che eccita il tuo corpo un livello elevato significa che il tuo corpo rimane attivo per un periodo di tempo più lungo uno svantaggio di questa situazione è l'incapacità di rilassarsi e addormentarsi il progesterone è l'ormone da cui il tuo corpo dipende per rilassarsi quindi se hai difficoltà ad addormentarti regolarmente potrebbero esserci troppi estrogeni in azione soprattutto se non ci sono altri fattori coinvolti come stress e ansia 13 esaurimento considerando che alti livelli di estrogeni provocano la mancanza di sonno è naturale che tu ti senta stanca questa mancanza di sonno significa che sentirai più fatica sebbene dipenda dal tuo stile di vita e dal posto di lavoro l'esaurimento potrebbe tuttavia essere dovuto anche ad altri motivi come stress depressione e persino stanchezza cronica ma quando si combinano con altri sintomi è un chiaro segno della predominanza degli estrogeni